Ciao a tutti e benvenuti sul canale per un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Terra Amara, che vedremo in prima serata su canale 5, giovedì 4 aprile e nel pomeriggio di domenica 7 aprile. Come sempre ti chiediamo un piccolo favore, prima di cominciare. Iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Un semplice gesto che a te non costa nulla, ma che ti assicurerà di ricevere nuovi video in anteprima e per noi rappresenta un grande sostegno. Grazie. La polizia si presenta all'ospedale per interrogare Kadir riguardo al suo ferimento. Gli chiedono chi sia stato a sparargli. Kadir risponde che c'è stata una sparatoria a causa di una disputa per una donna e non è riuscito a identificare l'aggressore. Successivamente, chi li chiedono chi lo ha operato e chi lo ha portato in ospedale, ma lui afferma di essere svenuto e di non esserne a conoscenza. Aggiunge che anche se lo sapesse, non lo rivelerebbe mai. Nel frattempo, Wahab si avvicina alla porta della stanza di Kadir e ascolta la conversazione della polizia. Una volta che se ne sono andati, entra e confessa a Kadir di non aver avuto intenzione di sparargli, ma sostiene che lui non avrebbe dovuto provocarlo. Chiede perdono al fratello, ricordandogli anche la sua condizione mentale instabile. Tuttavia, Kadir, con decisione, lo respinge e gli ordina di andarsene, dicendogli che non vuole più avere a che fare con lui. Shermin, determinata a trovare sua figlia, si reca alla centrale di polizia per segnalare la scomparsa di Betul. Tuttavia, il commissario le spiega che Betul e Cholak potrebbero non essere reperibili il giorno dopo il loro matrimonio e che ciò sia del tutto normale. Shermin, mentendo, spiega che Cholak ha cacciato sua figlia di casa, ma lei teme che le abbia fatto del male. Il commissario risponde che non può incolparlo senza prove concrete, perciò aspetteranno qualche giorno. E se non si farà viva, indagheranno. Delusa, Shermin lascia la stazione di polizia. Tornata a casa, Shermin riceve la visita di Vedat. Il reporter vuole intervistare Betul riguardo alle voci sulla fine della sua relazione con Cholak. Betul però non si trova in casa e Shermin coglie così l'occasione di denunciare a mezzo stampa che Cholak ha ucciso sua figlia. Nel frattempo, all'ospedale, Fikret si sveglia e trova sua zia Lutfi accanto a lui, visibilmente agitata. Fikret la rassicura dicendole di sentirsi bene. Poi, dopo averle espresso la sua felicità nel sapere di far parte adesso di una famiglia con lei, Zuleya e i bambini, menziona di ricordare vagamente di aver visto Zuleya abbracciare Akan. Durante il suo profondo sonno, crede di aver aperto leggermente gli occhi e chiede a Lutfi cosa sia successo tra loro. Nel frattempo, Zuleya arriva, felice per il suo recupero, interrompendo la conversazione. Più tardi, Zuleya si incontra con Akan. Dopo che quest'ultimo ha salvato nuovamente la vita a Fikret, sente il dovere di mettere da parte i dubbi e il rancore. E gli chiede di parlare un po'. Vuole sapere come si è entrato a lavorare per il governo e il suo rapporto con Kadir. Lui le racconta che 10 anni prima lavorava in Libia dove ha fatto tanti investimenti e aveva una tale influenza che gli ha permesso di avvicinarsi a molte persone. Politici, imprenditori, mafiosi. Perciò gli è stato proposto di lavorare per i servizi di intelligence turca, per la quale, durante la guerra civile, si è occupato di contrastare il traffico di armi. Akan racconta che ha conosciuto Kadir e Vaap in Libano. Descrive Kadir come un uomo molto coraggioso e che sono diventati soci ma anche fratelli, salvandosi più volte la vita a vicenda. Il loro è un legame molto solido e non può essere distrutto facilmente però, le promette che quando sarà il momento, si occuperà di lui per l'omicidio di Fekli. Cholak è andato nello stanzino dove è rinchiusa Betul. Lei piange disperata e lo supplica di credere nella sua innocenza, di capire che non ha mai voluto avvelenarlo. Ma le sue parole cadono nel vuoto, poiché Cholak, con tono accusatorio, le rivela di aver ricevuto un avvertimento dalla persona che gli ha venduto il veleno che lei avrebbe tentato di usare contro di lui. Betul lo prega di lasciarla libera, ma Cholak le risponde che è sua moglie e deve vivere con lui come una regina, in quello stanzino tutto per lei. Betul Gli promette di divorziare che lei non vorrà niente da lui, ma se ne andrà da Chukurova insieme a sua madre. Cholak le risponde che è impossibile, perché nascerebbero tanti pettegolezzi, e poi le dice di essere felice di tornare a casa e trovare una moglie fedele che l'aspetta, e se ne va ridendo mentre lei piange disperata. Il giorno seguente esce sul giornale l'intervista di Shermin, che accusa Cholak di aver sequestrato e ucciso sua figlia Betul. Tutti leggono e commentano. La notizia arriva anche a Cholak che, infuriato, decide di uccidere la madre della sua sposa. Nel frattempo, il procuratore chiede al commissario di Adana, il motivo per cui non ha ancora investigato sulla scomparsa di Betul, e ordina di mandare gli agenti a perquisire la casa di Cholak. Vahap si avvicina al ristorante di Cholak e vede Kabus seduto da solo a un tavolo, intento a leggere il giornale. Si avvicina e chiede se Cholak ha sparato a Betul, o se l'ha uccisa pugnalandola. Kabus risponde che non può credere che Cholak sia un assassino di ragazze, e poi gli confida che la tiene prigioniera in uno sgabuzzino. Ma non solo. Rivela anche che il matrimonio tra Cholak e Betul è stata una messa in scena, e che in realtà non sono mai stati sposati. Il commissario e i suoi uomini fanno irruzione a casa di Cholak, ma poco prima, gli uomini di Cholak avevano legato e imbavagliato Betul in modo che non potesse chiedere aiuto. Le guardie, non trovando tracce di Betul, se ne vanno convinte che Cholak sia stato calunniato da Shermin per soldi. Uscito dall'ospedale, Kadir si dirige all'officina, e trova Vahap ad attenderlo. Vahap si scusa nuovamente con suo fratello, e gli dice che è pronto ad accettare qualsiasi punizione Kadir voglia infliggergli. Piangendo, tira fuori la pistola, e la porge a Kadir, chiedendogli di sparargli. Vahap chiede a Kadir di porre fine alla sua sofferenza, poiché la sua malattia mentale lo rende infelice, e si rende conto di causare danni ad altre persone. Con le lacrime agli occhi, chiede a suo fratello di sparargli perché non vuole più vivere così. Kadir punta la pistola alla testa di Vahap, ma dopo poco la abbassa. Chiede a Vahap se davvero crede che lui possa uccidere suo fratello, il suo stesso sangue, e gli dice che è dispiaciuto per la sua condizione, e di essere stato lui stesso la causa della sua malattia a seguito degli avvenimenti accaduti sotto le bombe a Beirut. Infine, i due fratelli si abbracciano, e decidono di unirsi per affrontare Cholak. Più tardi, Vahap informa Kadir che Cholak ha rapito Betul, e la tiene prigioniera nel seminterrato della sua residenza. Kadir risponde che non gli importa. È deluso da lei. Lo ha tradito, e lo ha lasciato da solo su un letto di morte. Vahap è molto sorpreso dalla reazione di suo fratello, e lo guarda dubbioso. Alla villa, Shermin si aggira nervosamente, ma il suo cuore si ferma improvvisamente quando scorge Cholak e i suoi uomini avanzare minacciosamente verso di lei. La paura la pervade, mentre comprende che Cholak ha scoperto le sue dichiarazioni alla stampa, in cui lo accusava come possibile responsabile della scomparsa di sua figlia. Terrorizzata, cerca aiuto, e Zuleya, attirata dalle grida, esce dal salone e incontra Shermin che corre sconvolta, implorando di proteggerla poiché Cholak vuole ucciderla. Zuleya le ordina di rifugiarsi nella sua stanza e di chiudere la porta. Mentre Cholak urla minacce e chiede che gli venga consegnata Shermin, ammettendo di non avere nulla contro la padrona della villa, Zuleya risponde con fermezza e coraggio. Gli ricorda che quella è casa sua e che Cholak, con i suoi uomini, sta commettendo una violazione di domicilio seguita dalle minacce. Nonostante Cholak insista nel volere Shermin, Zuleya gli risponde che da casa sua non otterrà nulla. Anche se Shermin potesse essere considerata sua nemica, Zuleya non tradisce il suo senso di giustizia e solidarietà. Cholak, sempre più irato, chiede a Zuleya se si assicura della sua decisione. Lei conferma con determinazione che quella è la sua scelta e non c'è altro da aggiungere. A questo punto, Cholak estrae la pistola, puntandola verso di lei, minacciando di ucciderla se continuerà ad ostacolarlo. Tuttavia, Zuleya rimane ferma, sfidando Cholak a fare ciò che vuole. In quel momento critico, gli uomini di Zuleya, guidati da Gaffur, intervengono armati di attrezzi e fucili, circondando Cholak e costringendolo a ritirarsi. Nonostante le sue ultime minacce e i suoi tentativi di intimidire, Cholak deve cedere di fronte alla forza e alla determinazione di Zuleya. Con un ultimo grido di sfida, Zuleya esige che se ne vada, salvando così la vita di Shermin. Alla Yaman Holding, Kabus cerca Hakan, ma non lo trova. Informa Zuleya che Hakan ha chiesto di essere informato su tutto ciò che fa Cholak. Kabus confessa che Cholak tiene Betul prigioniera nel seminterrato della sua residenza. Ammette che Betul non è una brava persona, ma che a lui dispiace vederla soffrire e che sua madre, Shermin, è disperata credendo che sua figlia sia morta. Zuleya si precipita alla villa e tranquillizza Shermin dicendole che sua figlia è viva, che è a casa di Cholak, chiusa nel seminterrato. Nel frattempo, Zuleya raduna i suoi uomini con l'aiuto di Rashid e Gaffur. Quest'ultimo non ha un'arma con sé, e Zuleya gli chiede il motivo. Gaffur risponde con una scusa, ma Rashid ammette che Gaffur ha solo paura, e che sarebbe meglio che andasse in cucina a mangiare, mentre loro si occuperanno di riportare Betul a casa da sua madre. Dopo essere stato ridicolizzato, Gaffur riceve l'ordine da Zuleya di prendere subito il suo fucile, poiché non c'è tempo da perdere. Zuleya e la sua numerosa squadra giungono alla residenza di Cholak, ma lui è assente, e trovandosi in maggioranza prendono subito possesso della villa. Zuleya entra e comincia a chiamare Betul. Betul, sentendo Zuleya, urla il suo nome, ma gli uomini le coprono la bocca per evitare che gridi. Tuttavia Zuleya la trova quasi subito. Dopo averla liberata dalle corde e dal bavaglio, Zuleya la tranquillizza e la porta via con sé, chiedendo agli uomini della sicurezza di salutare Cholak da parte sua. Nella residenza Yaman, Shermin è affranta per l'assenza di sua figlia. Improvvisamente arrivano Betul, Zuleya e gli altri uomini. Madre e figlia si abbracciano commosse. Betul ringrazia Zuleya, dicendo che è al sicuro grazie a lei e che se non fosse stato per la sua prontezza d'azione, nessuno l'avrebbe salvata. Shermin esprime la sua gratitudine a Zuleya, poi madre e figlia si dirigono verso la piccola villetta. Gli uomini commentano che ciò che Zuleya ha fatto è stato incredibile. Rashid elogia Zuleya, definendola una persona di grande bontà. Nonostante Shermin e sua figlia abbiano fatto di tutto per contrastarla, Zuleya ha comunque deciso di salvarle. Tutti concordano sul grande cuore di Zuleya e applaudono la gran signora di Ciukurova. Nelle strade della città, Gaffur non perde occasione di raccontare nei minimi dettagli, e anche oltre, come hanno salvato Betul sotto il comando di Zuleya. Nel frattempo, Shermin e Betul riconoscono di dovere molto a Zuleya e non saprebbero come ricambiare. Zuleya, presente per sincerarsi delle condizioni di Betul, risponde che va bene così. Shermin parla ipocritamente, dicendo che sono state malvagie con lei, e nonostante ciò Zuleya le ha sempre aiutate. Entrambe si vergognano profondamente per tutto quello che hanno fatto in passato. Come hanno potuto infliggerle tanto male? Shermin non riesce a capirlo, e si sente così male che se potesse tornerebbe indietro per evitare di ripetere gli stessi errori. Poi Shermin ammette sinceramente che Zuleya ha dimostrato di essere la degna erede degli Yaman, e che le ha fatte sentire come una vera famiglia. Tuttavia, Zuleya risponde che la stanno interpretando male, perché lei non le ha perdonate, e non pensa che lo farà mai. Aggiunge che devono essere più caute perché lei non sarà sempre lì per salvarle. Zuleya se ne va, lasciando Shermin e Betul umiliate e nuovamente rancorose nei suoi confronti. Cholak scopre della fuga di Betul ed è furioso. Urla ai suoi uomini per come abbiano permesso a Zuleya di liberare Betul, e chiede come abbiano scoperto che Betul era stata sequestrata in casa sua. Uno degli uomini incolpa Vahap, dicendo di averlo visto chiamare suo fratello, dicendo che aveva qualcosa di importante da riferire. Vahap nega, ma alla fine scappa via. Gli uomini lo inseguono per ucciderlo, mentre Vahap si rifugia da suo fratello Kadir, affermando che Cholak vuole ucciderlo. Kadir gli assicura che lui è suo fratello, e che nessuno gli farà del male. Improvvisamente suona il telefono, è Betul. I due concordano di incontrarsi più tardi. Betul arriva con la sua auto e abbraccia subito Kadir. Amore mio, non posso crederci, dice, e Kadir risponde che finalmente è sfuggito alla morte per riunirsi a lei. Betul tocca il viso di Kadir, piangendo, dicendo quanto abbia temuto di perderlo, e quanto lui sia sempre stato nella sua mente. Ho pensato troppo a te. Anch'io ti sono mancata? Chiede Betul, e Kadir risponde di sì. Betul racconta come Cholak l'abbia rapita e maltrattata per giorni. Mentre Kadir è misterioso, le dice che è finita. Non soffrirai più. È tutto finito, assicura. Improvvisamente, però, Kadir afferra Betul per il collo. Betul, spaventata, con gli occhi fuori dalle orbite chiede cosa stia facendo e di lasciarla andare. Ma Kadir si rifiuta. È finita, bella, dice, stringendo sempre di più la presa sul collo di Betul. Lutfie, sindaco di Chukurova, ha scoperto delle irregolarità nelle proprietà di Cholak. Dopo aver inviato notifiche senza ottenere risposta, ha deciso di far demolire il ristorante di Cholak. Successivamente, Cholak viene arrestato per aver minacciato il sindaco con la pistola, ma viene rilasciato poco dopo. Più tardi, Hakkan e Zuleya fanno visita a Lutfie in municipio e le comunicano che si sposeranno presto e lei ha dato loro la sua benedizione. Lutfie è felice della notizia. Zuleya scopre che Betul e Shermin sono state sfrattate da Vahap. Questa notizia la preoccupa molto perché teme per la sicurezza di Shermin. Decide quindi di chiedere a Shermin di trasferirsi nella casa di Gaffur. Betul si sente a disagio in quella casa e vorrebbe protestare, ma Shermin la calma e ringrazia Zuleya per l'aiuto. Zuleya spiega che è stata un'idea di Gaffur e assicura loro che saranno al sicuro. Qui i loro nemici, Cholak e Kadir, non potranno far loro del male. Arrivati a casa di Gaffur, Betul protesta di nuovo dicendo di non voler vivere lì, ma Shermin cerca di rassicurarla, dicendo che devono essere grati a Gaffur e Zuleya e che i momenti difficili passeranno. Tuttavia, Betul si rifiuta di accettare, affermando che preferirebbe morire piuttosto che vivere in quella brutta casa. Più tardi, Zuleya accetta di cenare con Fikret, che la ringrazia per essere stata accanto a lui quando era in ospedale, ancora privo di coscienza. Durante la serata, Fikret estrae un anello di fidanzamento e sta per chiedere a Zuleya di sposarlo. Tuttavia, quando vede Hakan entrare nel ristorante e avverte la complicità tra i due, tristemente rimette l'anello in tasca. Hakan chiede se li ha disturbati o interrotti in qualcosa, ma Zuleya nega e lo invita a unirsi a loro al tavolo. Poi, Zuleya, rendendosi conto che Fikret stava per farle una proposta di matrimonio, cerca di toglierlo dalla situazione imbarazzante dicendogli che è l'occasione perfetta per ringraziare Hakan. Spiega che quando lui era in ospedale, nessun medico era disposto ad operarlo, perché troppo rischioso. L'unico chirurgo capace di affrontare un intervento così delicato era il dottor Dupont, proveniente dalla Germania e in vacanza in Svizzera al momento. Hakan è andato personalmente in Svizzera per prendere il dottor Dupont, che ha eseguito l'intervento salvandogli la vita. Fikret, all'oscuro della situazione, ringrazia Hakan riconoscendo che gli ha salvato la vita ancora una volta. Hakan, modestamente, gli dice che non c'è bisogno di ringraziarlo, poiché avrebbe agito nello stesso modo se le parti fossero invertite. Anche se Fikret risponde certamente, è evidente che si sente molto imbarazzato. Hakan approfitta del momento e decide insieme a Zuleya di condividere con Fikret la bella notizia. Zuleya annuncia che lei e Hakan si sposeranno presto. Questa rivelazione lascia Fikret senza parole, triste e devastato. Aveva programmato di chiedere a Zuleya di sposarlo quella sera, convinto che lei avrebbe accettato. La realtà è molto diversa da quanto sperava. Si rende conto che Hakan aveva da sempre ragione. I sentimenti di Zuleya erano per lui e non per Fikret. Dopo momenti interminabili di smarrimento, Fikret si sforza di fingersi felice per il futuro matrimonio di Hakan e Zuleya, anche se dentro di sé è dilaniato dal dolore. Successivamente, Fikret confida a Cetin tutta la sua sofferenza nel sapere che Zuleya sposerà Hakan. Cetin cerca di confortare l'amico dicendo che tutto passerà, ma Fikret è troppo affranto e risponde che non può vivere nell'illusione che il dolore sparirà con il tempo. Nel frattempo, Cholak ordina segretamente l'uccisione di Zuleya. Invia un uomo alla tenuta sotto falso pretesto di chiedere aiuto, affermando che sua moglie è incinta e sta sanguinando abbondantemente. Zuleya, presa dal panico, chiama disperatamente il dottor Aikut per intervenire. Mentre Aikut e gli altri si mettono in viaggio, a cavallo nel bosco per raggiungere la donna, si fermano improvvisamente vicino a un ponte sospeso. Aikut si rende conto che devono attraversare il ponte uno per volta, ma un uomo al servizio di Cholak interviene tagliando le corde del ponte mentre Zuleya, Aikut e Ghaffur lo stanno attraversando. Hakan li raggiunge con una jeep e interviene prontamente sparando in aria per far indietreggiare i cavalli, ma purtroppo il ponte crolla. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete. Voglio il seguito nei commenti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!